sciaghi quel pezzo che ha messo della zanzariera non cade no? no l'ho vittata come era prima come era li ho messi si si va bene e giù c'è ancora si giù 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 non l'ho tolto sciaghi basta ma guarda che adorazione vieni qui sciaghi vieni qui vieni qui accucciati un gioco ma guarda questo non è un cane da guardia per niente per esempio se lei ferma a questo momento già si blocca fermala così? ecco adesso ferma lì nella posizione che lei indica con quel tastino che abbiamo messo è così se tu me ne dice basta lei dice basta come era prima come era prima mi ha messo solo il motore nuovo come prima più di prima mettila mettiti qui sciaghi ciao